L'uscita recente di un piccolo ma utile manuale per l'autopubblicazione, ovvero Self Publishing per Negati di Daniela Barisone, mi ha invogliato a spendere quattro parole su quello che è uno dei miei settori, forse il settore che più mi ha rappresentato per diversi anni, prima di passare anche ad altri interessi, il self publishing appunto, che per chi non lo sapesse si tratta appunto dell'autopubblicazione, ovvero di quegli autori che sorpassano l'editoria classica e che pubblicano per conto loro appoggiandosi a delle piattaforme come soprattutto Amazon, ma ce ne sono altre simili, piattaforme che appunto accorciano il percorso di pubblicazione di un titolo, eliminando l'intermediario principale, l'editore lasciando i due estremi, ovvero la piattaforma di vendita e di distribuzione e l'autore. Questo per dirlo in modo tecnico. In realtà credo che tutti oramai sappiate più o meno cos'è il self publishing e che anche, credo anche che alcuni di voi che mi seguite, siate stati tentati di usufruire di questo servizio o l'abbiate fatto. Intanto sono qua in compagnia con i miei cani che non vi posso mostrare perché sono fuori obiettivo, ma che metaforicamente parlando possono riassumere anche quello che è uno dei grandi temi del self publishing nell'ottica di chi non è dentro questi meccanismi, ovvero un'editoria per scrittori che scrivono come i cani. Ecco così, ho dato un senso alla presenza ai miei pastori tedeschi, perché il maschio di qui e la femmina di qui, ma sto divagando. Il video di oggi, dicevo, il video di oggi vi vuole fare da orientamento per un'eventuale scelta di autopubblicazione. So che mi seguite molti appassionati di scrittura e qualcuno di voi ambisce appunto a pubblicare e ha questa sfortuna come me di voler fare lo scrittore, di voler essere uno scrittore. Non prenderemo in considerazione non oggi cosa vuol dire la definizione fare lo scrittore, se mi seguite da anni o anche da mesi sapete per me cosa significa, ma ci torneremo. Piuttosto ho diviso, prendendo appunti, ho diviso il self publishing in pro e contro, ovvero che pro ci sono a pubblicare da soli, come autopubblicazione, e quali sono i contro. È una dot list abbastanza semplice che vi renderà l'idea e poi magari in altre puntate dedicate appunto a scrittura, comunicazione, pubblicazione, ci adentreremo più nel discorso. I pro del self publishing. Allora, la prima pro, che è quello che mi ha spinto maggiormente insieme a un altro di cui parleremo a breve, è che come autoprodotti, autopubblicati, avrete il pieno controllo del vostro prodotto, del vostro libro, in quanto a trama, a eventuale serializzazione della maidesima, a distribuzione del libro, del book, dove volete, quando volete, e a promozione. Potete adottare qualsiasi strategia promozionale vi venga a mente, anche le più strane, anche le più coraggiose. E qui cito il mio progetto testimonial digitali, che vi metto in descrizione di Dascalia, che qualche ben pensante ha criticato perché non si possono abbinare le modelle ai libri, è uno scempio, non è cultura, eccetera, eccetera. Magari un editore tradizionale, soprattutto un grande editore, farebbe questo medesimo ragionamento, mentre un piccolo editore lo valuterebbe pro e contro, come sto facendo io in quest'ambito, mentre un self può decidere bellamente di azzardare qualsiasi strategia promozionale preferisca. Secondo pro, i guadagni ipotetici delle vendite del vostro ebook o libro saranno sempre e comunque superiori rispetto alle royalties che vi garantirebbe un qualunque editore. Mettetevelo in testa e ve lo ripeto, i guadagni ipotetici saranno sempre superiori per un self-publishing rispetto ad un autore pubblicato con un editore. Diciamo che su Amazon il range di guadagno per ciascun titolo venduto va dal 30% circa al 70%, quindi parecchio guadagno su ciascuna copia venduta, mentre un editore, se vi va bene, ma proprio bene, vi garantirà il 15% di royalties sul venduto. Terzo pro, autopubblicare non è una scelta di vita e di morte. In qualsiasi momento potrete ritirare il vostro libro e fidarlo a un editore tradizionale per una valutazione e per un'eventuale pubblicazione. Punto. Senza contraindicazioni. Quarto pro, il self-publishing azzera il complesso processo produttivo e distributivo che passano dal proporre un libro a un editore, valutarlo, pubblicarlo secondo il calendario editoriale dell'editore stesso, il che può anche ritardare la pubblicazione di un libro, ammesso che venga citato dall'editore, anche di un anno o due, cosa che ho provato perché anche io ho pubblicato dei racconti con l'editore tradizionali mesi e mesi dopo quanto mi era stato detto in una prima fase appunto programmatica. Perché? Non per cattiveria dell'editore, ma perché è così? Ci sono delle lungaggini, dei processi distributivi molto complessi che di solito portano a una lunga fase di gestazione di libri, antologie, anche di ebook. Per gli ebook la faccenda di solito è più rapida. Invece se il publishing azzera tutto questo potete scrivere, editare un libro, un ebook, farlo editare e pubblicarlo anche nel giro di pochissimi mesi, anche di poche settimane, se non è un libro eccessivamente lungo. E ora veniamo ai contro. I contro sono pochi ma incisivi. Allora, i lettori medio e deboli non vi riconosceranno mai lo status di scrittori. Per la maggioranza di loro il self-publisher, l'autore autoprodotto, è un autore che non ce l'ha fatta, ovvero uno scarto editoriale. Quindi non capiscono o non vogliono capire, tranne eccezioni, che la scelta di essere autopubblicati può essere ben ponderata e voluta e non un ripiego. Molti non lo capiscono e non lo capiranno mai. Secondo contro. Per alcuni editori, non per tutti fortunatamente, aver autopubblicato anche un solo ebook è una macchina indelebile sul curriculum. Per questi editori, quindi, un ex self o un self che si divide tra autopubblicazione e pubblicazione tradizionale è un corpo estraneo, al mondo nobile della letteratura e quindi non verrà preso in considerazione. Terzo contro. Il fatto che il 90% dei libri autopubblicati abbia una qualità media decisamente bassa ha generato dei giusti preconcetti sull'intero mondo del self e degli autori indi anche. Quindi per molti lettori è davvero difficile dare una chance a un ebook autoprodotto, un libro autoprodotto, perché questa fascia di lettori parte appunto dall'idea che il prodotto indie, il prodotto self non sarà qualitativamente all'altezza dei loro standard. Ultimo contro. Se siete dei self e se volete lavorare bene, perché un self può lavorare bene, io credo e spero di aver lavorato bene, che ne dicano qualcuno, ma in generale il mio pubblico è sempre molto soddisfatto, altrimenti non mi seguirebbe. Quello che dico io, non ti piace quello che faccio, lo reputi poco professionale, non seguirmi. Semplice no? In realtà non è così semplice. Comunque, chiusa parentesi, dicevo se anche siete dei self e se anche volete lavorare professionalmente, anzi soprattutto se volete lavorare professionalmente dovrete fare tutto da solo. Il che è un pro come abbiamo visto perché avrete piena controllo del vostro prodotto del vostro progetto, ma è un conto perché dovete fare tutto da solo, impaginare, rileggere, cercare un grafico, cercare un editor. Il che come vedete non è esattamente come ho detto, ovvero non è tutto da solo, ma è tutta la fase di ricerca di collaboratori che dovrete fare da solo. Non avrete un ufficio stampa che vi seguere, non avrete un collaboratore che vi fa da scout per cercare agenzie grafici. No, dovrete cercare i vostri collaboratori, cosa che vi consiglio di fare, perché pensare soprattutto agli inizi, pensare di fare da soli l'intero processo, ovvero editing, impaginazione delle book, che è una cosa abbastanza complicata per i neofiti, e parte grafica, copertine, eccetera, è davvero difficile. Magari col tempo, con gli anni, imparerete. Io per esempio ho imparato a fare delle copertine abbastanza decenti, buone a dire di qualcuno, da solo. Per esempio l'editing da solo difficilmente riuscirete mai a farlo, per non dire mai proprio. E quindi questa fase, questa libertà, che è un pro, viene compensata dal fatto che è una libertà che dovete gestire a tempo pieno e trovare a tempo pieno dei validi assistenti, dei validi collaboratori esterni da pagare. E sì, anche il fatto del costo, in effetti i prezzi per un self, sì, avete più guadagni, ma avrete le spese tutte a carico vostro. Non che l'editore moderno, soprattutto il piccolo editore, investa più di tanto sui suoi autori, soprattutto sulla fase promozionale. E anche sulla fase di editing c'è da dire che in Italia ultimamente gli editor lavorano non proprio benissimo questo, perché anche c'è stata una corsa al ribasso, ovvero vengono affidati i lavori ai editor che chiedono poco, per spendere poco, ma i risultati a volte sono un po' dubbi. Quindi questi sono i pro e contro dell'autopubblicazione, detto proprio molto alla grossa. Torneremo in argomento? Sì, se avete domande fatemele. Ditemi soprattutto cosa ne pensate, non tanto di me, tanto so che chi mi apprezza mi apprezza, chi mi odia mi odia, è inutile star qui e io non faccio polemiche, non rispondo a polemiche, quindi evitate di tirarvi in mezzo, se non vi piaccio non mi seguite, qui chiudo le polemiche, piuttosto ditemi e fatemi sapere se in generale apprezzate, sostenete il self-publishing, se lo ritenete un bene, un male, un'alternativa all'editoria traduzionale, un disastro o che cosa. Insomma, sono proprio curioso. Fatemelo sapere nei commenti su YouTube, fatemelo sapere sui social, purché che la discussione sia pubblica, non mi interessa tanto ricevere dei commenti privati in questo caso, ma aprire una discussione, possibilmente civile. Ne riparleremo comunque. Alla prossima.